Ecco, noi siamo qua in Fiera Riva Expo Hotel con le nostre sauna della Hitrosoft. È una novità in assoluto perché queste sauna hanno praticamente il calore e il vapore. E questo è una novità perché va bene sia per la salute e per il benessere e con tanti particolari, con tanti vantaggi. Per esempio queste sauna qua possono essere usate per bambini fino anche a un'anzianità, adulti di 80-90 anni. Il vantaggio di queste sauna è che purificano la pelle, vanno bene per le vie respiratorie e per tante altre piccole malattie. Qui abbiamo un modello a due posti e abbiamo già un clima molto particolare, con umidità fino a un 70% e la novità appunto sono questi pannelli in carbonio di calore e qui questo sistema di evaporazione che fa questo effetto positivo poi. Il particolare di queste sauna è che sono molto piccole, stanno su una superficie di un metro quadro e il consumo di queste cabine è minimo perché consumano solo 1,4 kilowatt, quindi possono essere piazzate in ogni appartamento, in ogni stanza e siccome sono su una dimensione molto piccola non portano via tanto spazio. Allora qui abbiamo una novità mondiale, questa è una sedia con il schienale a infrarosso che praticamente ha una temperatura continua di circa 37 gradi e il calore entra pian piano nel corpo fino alle ossa e questa è una cosa nuovissima, una novità mondiale. Grazie a tutti.